Ciao a tutti, questo è il nuovo smartphone di Zopo, un ammalachino abbastanza conosciuto in Italia. Vediamo. Lo smartphone è fatto di materia plastico. Schermo non molto grande, ma facile da portare. E vediamo i suoi bundi con Antutu o della guin di Trimila. Vediamo i suoi bundi con Antutu. Wi-Fi già connesso? Facebook e Youtube e WhatsApp già installati? Sopporta la lingua italiana? Vediamo anche la mapa. Ci ha trovato? Dove ci sono? Poi cerchiamo, ad esempio, Roma. Trovato molto rapidamente? Sopporta la lingua italiana? Papà e stanza ritornolenNE invece, un não è breve'ial. La ruga italiana hood ha rispetto in un'acquismo. Và voi ci military chiama, vediamoci la lingua italiana. Non è uneasy? Sopporta la lingua italiana? Pediamo questa lingua italiana? Grazie a tutti.